Via dalla pubblica amministrazione chi commette molestie a carattere sessuale. Lo prevede la bozza del contratto per gli statali. Che esplicita e rafforza le sanzioni previste in questi casi. La conseguenza immediata la sospensione. Fino a un massimo di sei mesi. Se per il comportamento si ripete nell'arco del bienio. Scatta il licenziamento. Messo in atto anche se la molestia particolarmente grave. La pena massima prevista se ci recidiva di atti o comportamenti o molestie a carattere sessuale. O quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravid. Scambio di regali o favori il licenziamento per gli statali scattere inoltre anche per chi accetta. O chiede, o per altri, regali o altre utilità non di modico valore. Al di sopra dei 150 euro. Come contropartita per essersi adoperati. Nell'ambito del proprio ufficio. A vantaggio diretto di chi fa il dono. Un capitolo della bozza di contratto dedicato al codice disciplinare che recepisce il regolamento. Sulla condotta del 2013. Chiarendo che quindi nei casi di scambio di favori non sia solo possibile elogima. esplicitamente prevista l'espulsione. La regola funziona non solo per i doni di cui si destinatari. Ma anche per quelli che hanno permettente l'impiegato. Un rafforzamento della sanzione che vale anche per altre situazioni. Come quelle di effettivo conflitto di interesse. La stessa norma vale per il dipendente che conclude. Per conto dell'amministrazione. Appalti con imprese con cui agi fatto affari a titolo personale. Privato. Stipulando contratti o ricevendo altre utilità nell'arco del bienio precedente. E ancora. La sanzione resta quella massima per quanti costringono loro colleghi ad aderire ad associazioni. O d'organizzazioni. Facendo pressioni e promettendo vantaggi o svantaggi di carriera. Le norme sulla condotta un'altra novit del nuovo contratto sta nella trascrizione puntuale dei. Principi contenuti nel regolamento sulla condotta. Solitamente. Nei precedenti contratti. Il codice di condotta costitutiva un allegato. Adesso il tutto viene reso picogente con un codice di disciplina ad hoc all'interno del contratto. Nazionale di lavoro. Si prevede che ne venga data la massima publicit. Come l'entrata in vigore è fissata dopo il quindicesimo giorno. D'altra parte la riforma madia. Che traccia la strada e i rinnovi contrattuali. Punta sulla certezza e sull'operatività di sanzioni altrimenti destinate a restare su carta. Inoltre. Dopo otto anni di blocco. C'era da aggiornare tutto il quadro. Mettendo la pubblica amministrazione al passo con i tempi. Le novit saranno al centro dell'incontro e del 5 dicembre tra sindacati e ARAN. L'agenzia che rappresenta il governo nelle trattative. Altro su MSN. Continua lo scandalo molestie. Rai Play. Sponsorizzato. Offerta a Surface Pro i 5 con cover type inclusa a soli 979 invece di 1. 323. 99. Compra ora maggiore maggiore. Sponsorizzato. Sponsorizzato. Ph mantiene. Grazie a tutti.